Musica Le mura del pincio ancora nel mirino dei vandali, spuntate nuove scritte con la vernice spray. Su Fano TV la comandante della polizia locale ribadisce il ruolo delle telecamere già installate anche nell'area, fondamentali per prevenire e individuare gli autori di tali gesti. Trentenne lascia l'auto sfrenata, il mezzo attraversa la statale, va a sbattere contro il muretto di un'abitazione e per fortuna nessun danno a persone e coppia. Niente Green Pass, mascherine FFP2 e regole per frequentare il catechismo, la CEI invia il nuovo elenco con le raccomandazioni utili a contenere il contagio da Covid-19. Cartelle e recupero tari, l'Udici attacca il comune di Fano, vuole far cassa, i cittadini non vanno tartassati, il sindaco sospenda gli accertamenti. Aprire un circolo culturale a Pesaro che manca da tanti anni, è l'idea del Conte Pinoli, noto albergatore che metterà a disposizione gli spazi di un suo hotel per incontri e conventi. Buonasera e bentornati sul canale 17 di Fano TV per occhio alla notizia. Il Pincio di Fano, come avete appena sentito, è stato preso di mira dai vandali ancora una volta. Le mura della terrazza sono state imbrattate con le bombolette spray e ora la polizia locale sta vagliando le immagini delle telecamere per individuare gli autori. Ci risiamo, quello che nel tempo è diventato il salotto buono della città continua ad essere anche un luogo in cui i ragazzi si divertono, per così dire, a lasciare scritte e disegni. Ma sulle mura, incuranti dell'impianto, di videosorveglianza, i vandali sono tornati a colpire, questa volta la terrazza, dove da alcuni giorni spiccano grandi scritte rosse e gialle. Ed eccolo qui, il super lavoro di chi con ignoranza non comprende né il valore storico né quello del bene comune. Ora sono al vaglio le immagini registrate dalle telecamere. Comandante, come state procedendo e quanti sono gli occhi elettronici installati nell'area? L'area è videosorvegliata e quindi abbiamo sette telecamere che sono di videosorveglianza e consentono proprio quindi di riprendere i movimenti che ci sono nella zona. Abbiamo poi una telecamera termica che questa rileva soltanto i movimenti e quindi non è utile per l'identificazione dei soggetti. E poi c'è anche una telecamera dom che questa è stata orientata sulla rotatoria e c'è molto utile per capire anche le dinamiche dei sinistri e c'è utile quindi per la sicurezza della circolazione in generale perché riprende non solo tutta la rotatoria ma anche gli attraversamenti pedonali che ci sono in zona. Le telecamere quindi di per sé sono utili come primo momento per capire i fatti che accadono nella zona. Al momento le stiamo vagliando proprio per capire chi ha effettuato gli imbrattamenti e nell'immediatezza stiamo procedendo con queste indagini perché poi la telecamera, capite bene, non dà il nominativo nell'ora in cui i fatti vengono, in cui accadono. Occorre visionarle, visionarle tutte ma poi alla fine ci arriviamo ad identificare gli autori come già è successo quando c'è stato il precedente imbrattamento delle panchine e come già è successo anche con il danneggiamento del presepe. Dunque diverse le funzioni? Sì, sono diverse. Ovviamente non le guardiamo soltanto per riprendere gli imbrattamenti che avvengono nella zona ma per tutti i fatti anche di particolare rilievo e di maggiore rilievo tant'è che questi sistemi vengono utilizzati da tutte le forze di polizia anche per identificare fatti più gravi che accadono in zona. Sono uno strumento molto utile ma ripeto sono lo strumento di partenza che quindi vengono vagliate, visionate per poi da lì fare le indagini correlate successive per arrivare all'identificazione degli autori. I vigili urbani questa mattina sono intervenuti verso le 9 in via le 12 settembre per la presenza di un'auto di traverso sul marciapiede. Il mezzo, un Renault, era stato lasciato in sosta in via San Paterniano molto probabilmente senza aver azionato il freno a mano ed essendo il tratto di strada in pendenza l'auto ha attraversato tutta la statale terminando la corsa contro il muretto della casa situata in via le 12 settembre lato Ancona. Per fortuna durante questo percorso il veicolo non ha provocato danni né a persone né a beni. Rintracciata la proprietaria, una ragazza fanese di 30 anni ha provveduto subito a spostare il veicolo in modo da ripristinare la sicurezza della circolazione. La giovane però è stata sanzionata secondo le norme del codice della strada per mancata messa in sicurezza di un veicolo in sosta. Cambiamo argomento, la conferenza episcopale italiana ha inviato nei giorni scorsi una nuova nota dove vengono elencate alcune raccomandazioni utili a contenere il contagio da Covid-19 durante le celebrazioni eucaristiche e l'orario di catechismo. Servizio di Filippo Pucci. La pandemia non accenna a finire e proprio in questi giorni il numero dei contagi purtroppo continua a salire. Si tratta senza dubbio di una grande prova per tutti, malati e sofferenti, medici e operatori sanitari, anziani e minori, poveri e famiglie, ma non solo, anche per i sacerdoti, per i catechisti, gli educatori e gli operatori pastorali. Nei giorni scorsi, attraverso una nota, la Segreteria Generale della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, ha inviato delle raccomandazioni utili a contenere il delicato momento. Tale comunicazione è stata pubblicata anche nel sito ufficiale della Diocesi. Durante le celebrazioni liturgiche non è richiesto il Green Pass, ma si continua ad osservare quanto previsto finora, ovvero l'uso delle mascherine, meglio se FFP2, e del gel igienizzante, distanziamento tra i banchi, niente scambio della pace e acqua santiere vuote. Anche durante le ore di catechismo vanno sempre seguite le regole di accorgimento, come mascherine e distanziamento. A seguito di un contatto stretto in ambiente scolastico, studenti e docenti non vengono posti immediatamente in quarantena, ma devono sottoporsi a un tampone il prima possibile e nuovamente cinque giorni dopo. Le indicazioni del Ministero della Salute sconsigliano la partecipazione ad attività extrascolastiche durante tale periodo, tra il primo e il secondo tampone. Chi è sottoposto a sorveglianza con testing non potrà partecipare al catechismo pur risultando negativo al primo test fino all'esito negativo del secondo test da effettuarsi cinque giorni dopo. Per gli operatori, catechisti, animatori ed educatori è raccomandato l'utilizzo della mascherina FFP2 come anche ai partecipanti alla catechesi. In questi giorni stanno arrivando a tanti fanesi gli accertamenti sull'Atari con cartelle da centinaia di euro sul recupero della tassa sui rifiuti. Oggi insorge l'Udc. I cittadini non vanno tartassati, ha detto Davide Del Vecchio. La Giunta Seri vuole far cassa. In piena pandemia, con una crisi economica e finanziaria in atto e con i recenti rincari delle bollette, il sindaco Seri e la Giunta pensano bene di inviare alle famiglie gli accertamenti per l'imposto sui rifiuti. È il commento dell'Udc che attacca le modalità con le quali l'Andreani Tributi che gestisce il servizio di riscossione sta recuperando le somme dovute e calcolate in base alle superfici catastali. Del Vecchio che cosa viene chiesto nelle intimazioni di pagamento? Nelle intimazioni di pagamento viene chiesto un recupero di 5 anni addietro della tariffa dei rifiuti. Ecco, però viene contestata un'infedeltà. Viene contestata un'infedele dichiarazione. In realtà la tasse dei rifiuti è stata istituita nel 1993. Ci sono state una serie di tasse dalla Tarsu arrivare fino alla Tari del 2014 e nessuno ha fatto mai una dichiarazione. Nel senso che il Comune inviava a casa del contribuente una bolletta con già scritti metri e venivano pagati dai contribuenti. Non la vedo un'infedele dichiarazione come c'è scritto. E avete verificato che viene conteggiato anche il 2016? In molti casi sono arrivate raccomandate o richieste nel 2022 con richiesta appunto del 2016 che è un anno già prescritto per legge. Quindi un anno che non può chiedere Andreani i tributi per conto del Comune di Fano. Io credo che tra l'altro in un momento come questo dove c'è una grande crisi ai cittadini stanno arrivando bollette dell'energia elettrica, del gas, del metano anche delle auto stesse che sono aumentate a dismisura. Tutte le parti sociali chiedono aiuti quindi sindacati e le imprese dell'impresa del territorio e il Comune di Fano cosa fa? Invia invece un accertamento esecutivo per cui dice entro i 60 giorni mi devi pagare. In molti casi cifre non elevate però che vanno dalle 2, 3, 400 euro fino a 1.000, 2.000 euro però sono cifre che ti costringono a prendere un tecnico per verificare i metri quadri poi prendere un legale per verificare se si può in quel caso fare un ricorso. In molti casi non conviene visto la cifra in discussione. Questo ha proseguito del vecchio e far cassa sulle spalle dei cittadini e in modo irregolare visto che in base al regolamento approvato a giugno 2021 il Comune deve comunicare ai cittadini le discrepanze individuate sulle diverse metrature per una verifica successiva. Ora ha aggiunto il coordinatore provinciale dell'Udc se gli utenti non pagano entro i termini indicati inizieranno le procedure esecutive probabilmente tramite l'Agenzia delle Entrate che potrebbe anche pignorare parte dello stipendio. E che cosa chiedete al Sindaco? Beh, a questo punto visto anche i dati di fatto bisogna che il Sindaco sospenda tutte queste cartelle. Io penso che i cittadini siano del tutto onesti e in maniera onesta pagherebbero quello che c'è da pagare ma non in questa maniera. In molti casi da quello che abbiamo riscontrato sono errori di incrocio di dati magari cose che non esistono più oppure superfici che vengono calcolate in maniera sbagliata. Ci sono tantissime casistiche per cui, ripeto, appunto per questo bisognerebbe fare un incrocio di dati tra il Comune di Fano e i contribuenti, i cittadini di Fano. A Fano sono previsti nuovi aiuti economici per chi è in ritardo nel pagamento dell'affitto. L'assessorato al Welfare ha pubblicato l'avviso relativo al contributo riservato a coloro che, trovandosi temporaneamente in difficoltà economiche, sono rimasti indietro nel pagamento del canone di locazione del 2021 a causa della perdita o consistente riduzione del reddito familiare. La novità principale riguarda l'estensione della platea dei beneficiari che siano in possesso di un ISEE annuali o corrente non superiore a 35 mila euro e abbiano subito in ragione dell'emergenza Covid-19 una perdita del proprio reddito superiore al 25%. La scadenza per richiedere il contributo è fissata per il 25 febbraio ma tutti i dettagli li troverete anche sul nostro sito occhioalanotizia.it E sul sito della Comune di Fano è stato pubblicato anche l'avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse da parte di associazioni e organizzazioni di volontariato per la cura e la manutenzione del verde pubblico infatti nell'ambito dei principi di sussiderità e di promozione della cittadinanza attiva l'amministrazione comunale intende affidare alcune aree verdi tramite convenzione per il triennio 2022-2024 a fronte di un rimborso spese per l'attività svolta in particolare i volontari dovranno eseguire lo sfalcio dell'erba la potatura delle siepi la sorveglianza e il controllo delle zone affidate con la pulizia dei rifiuti e il mantenimento del decoro per una fruizione pubblica delle aree le domande su apposito modulo dovranno essere presentate anche in questo caso entro le ore 12 del 25 febbraio A Pesaro manca un circolo culturale il noto albergatore Alessandro Marcucci Pinoli è pronto ad aprirne uno mettendo a disposizione gli spazi di un suo hotel per confronti su temi di attualità e convegni ha sempre cercato di unire le persone che amano l'arte e la cultura attraverso incontri presentazioni di libri e mostre allestite nei suoi alberghi e nelle gallerie della città ma ora vorrebbe dare un contributo maggiore il conte Alessandro Marcucci Pinoli ha il lavoro per istituire a Pesaro un circolo cittadino però adesso ho pensato di fare un vero e proprio circolo culturale perché manca insomma una volta c'era il circolo pesarese poi c'è stato il circolo immobiliere adesso praticamente a Pesaro non c'è un vero circolo culturale mentre per esempio a Fano c'è ma allora ho pensato di farlo qui perché ho questi ambienti molto grandi e siccome adesso c'è anche la pandemia c'è il problema delle distanze io qui abbiamo tutto per stare tranquilli perché chiediamo il super green pass chiediamo le mascherine obbligatorie per tutti le distanze abbiamo tutti i sanificatori quindi si può venire qui tranquillamente e io metto a disposizione sia tutti questi salotti che sono tanti sia la sala le riunioni e la galleria degli specchi quindi per potersi incontrare e parlare d'arte e di cultura spazi che verranno messi a disposizione in modo gratuito non serviranno tessere ha precisato l'imprenditore né spese mentre i servizi come quelli del bar e del ristorante verranno lasciati al prezzo di costo per i partecipanti escludendo così guadagni personali Pinoli inoltre ha ricordato come nel tempo abbia sempre messo in risalto coloro che in modi diversi hanno dato il buon esempio comportamenti altruistici che per l'albergatore bisogna continuare a divulgare anche con queste iniziative le pagine le pagine dei giornali sono piene di violenze di ingiustizie di cattiveria di malvagità e siccome c'è uno spirito di emulazione poi la gente è portata a emulare e farmare invece sono tante le persone buone e brave allora io ho sempre sostenuto anche nei miei libri comunque anche con i miei quadri sculture che serve il buon esempio bisogna dare il buon esempio cercare di divulgarlo farlo sapere quando le persone fanno qualcosa di buono di bello infatti io do dei premi alle persone che hanno dato il buon esempio quando riportano i portafogli con soldi in questura quelli che aiutano i poveri quelli che lavorano alla Caritas che ogni tanto li invito alle cene a questi a Fano per esempio c'era un gruppo di 10-12 persone che andava tutte le domeniche nelle zone terremotate ad aiutare portare medicine portare viveri portare vestiti e quindi anche loro li ho premiati nel mio picco con una semplice cena però in modo che poi ne parlassero i giornali e ne hanno parlato e questo porta appunto l'emulazione verso il bene nel circolo con Clusopinoli cercherò di riunire le persone che amano l'arte la cultura e l'educazione e che vogliano incontrarsi anche per parlare degli argomenti del giorno dalla politica ai temi che riguardano la città che nessuno alzi la voce e voglia prevericare adesso c'è l'abitudine di parlare sopra quindi l'unica cosa è che siano tutti educati civili e ci sia un rapporto veramente culturale e di amicizia il comando provinciale della guardia di finanza di pesaro nei giorni che hanno preceduto le festività di natale ha realizzato un'iniziativa di solidarietà volta alla raccolta di fondi destinati all'ante la fondazione che opera nel campo dell'assistenza socio-sanitaria a domicilio ai sofferenti di tumore grazie alla somma di denaro raccolta è stato possibile garantire 10 giornate di assistenza specialistica gratuita a casa nei confronti di una persona residente a pesaro malata di tumore quest'anno Passaggi Festival festeggia i 10 anni di attività e per preparare questo appuntamento le due creative a cui è affidata la grafica Federica Falciasecca e Maria Chiara Indericato si sono messe al lavoro e hanno prodotto una serie di immagini che collegano il logo del festival la barchetta di carta al numero 10 la direzione di Passaggi ha deciso di rimettersi al giudizio di chi ha a cuore il festival facendo scegliere il logo 2022 attraverso un sondaggio aperto al pubblico sono state selezionate sei proposte grafiche e l'invito è quello di visitare il sito ufficiale del festival dei libri di Fano votare semplice basta cliccare sull'immagine scelta e sarà conteggiata la preferenza e questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale che torna domani sera alle 20 e 30 invece il consueto appuntamento con la lettura dei giornali è per domani mattina alle 7 insieme a Massimo Fughetti arrivederci arrivederci alla prossima alla prossima Grazie a tutti